Il terzo ed ultimo giorno della conferenza internazionale MedSolutions di Siena si è svolto all'insegna della concretezza e dell'approfondimento sulle solutions presentate. Allora Rettore, è giunto il momento di tirare le conclusioni di questa ricchissima maratona scientifica. Quali sono stati a suo giudizio gli aspetti più importanti emersi dalla conferenza? Innanzitutto il lancio stesso del network perché questo è un risultato che ora diamo per scontato ma insomma non era facile riuscire a riunire qui più di 25 paesi quasi tutti praticamente quelli del Mediterraneo. Già questo è un risultato importantissimo. È stato evidenziato come il Mediterraneo purtroppo è l'area che più soffre dai rischi di cambiamento climatico e non mi sembra che siamo molto consapevoli di questo. Il fatto che siano individuati i problemi ma più che altro iniziato a porre le basi per delle soluzioni credo che sia sicuramente il risultato più interessante. Oggi abbiamo parlato di soluzioni concrete che riguardano sia il problema dell'inquinamento del Mediterraneo, la plastica del Mediterraneo, sia un tema importantissimo anche per tutti quanti noi che è l'agricoltura, agricoltura sostenibile più l'energia. Penso che saranno questi tre gli argomenti sui quali ci focalizzeremo nel futuro. Già questo è un ottimo viatico. Il network va costruito, abbiamo business partners, abbiamo istituzioni che ci daranno una mano. Il network è importantissimo, è un valore e siamo orgogliosi che l'Università di Siena sia stata indicata, selezionata per questo importantissimo ruolo di conduzione del network. La ringraziamo moltissimo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.